io volevo innanzitutto ringraziare di avermi invitato qui a Maria Vittoria di essersi ricordata di me e mi trovo molto a mio agio perché perché effettivamente 20 anni forse 21 anni fa è marita 21 22 99 va bene va bene 20 una delle cose benissimo costruita la dark che era l'antenna la precursora dell'attuale direzione generale per la creatività contemporanea dark era un acronimo che D voleva dire direzione generale a R sono iniziali sia di arte che di architettura e C sta per contemporanea quindi veniva fuori dark questo acronimo facilmente pronunciabile che poi è stato uno dei delle 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 motivi per cui anche la direzione generale ha potuto lavorare con con più facilità diciamo che con la dark si mette in evidenza il concetto di continuità della storia e cioè non esiste più solo il passato il ministero non era più retroflesso girato all'indietro per la protezione di tutto l'antico di tutto quello che era accaduto prima ma si girava anche in avanti per tutelare proteggere per promuovere il la progettazione architettonica artistica del futuro per promuovere i beni culturali del futuro e quindi ehm questo era è stata l'innovazione maggiore credo della dark quella di voler dire il ministero per per la cultura guarda non solo la cultura del passato ma guarda anche alla cultura del futuro il primo segno che la dark dette di attenzione al contemporaneo fu l'acquisto dell'archivio Riccardo Scarpa da Tobia Scarpa che curai personalmente io con il mio collega Gianni Bullian andammo a Treviso da Tobia che voleva vendere l'archivio del padre per se non ricordo male venti miliardi però prendiamo dei miliardi di lire pur a venderlo al Centre canadien d'architecture allora andammo alla Tobia e non si può vendere un patrimonio così importante non si può bisogna che eh ce lo ceda eh e gli abbiamo contro offerto una cifra perché lui voleva realizzare e abbiamo contro offerto se non mi ricordo male quattro mila quattro miliardi da venti e quattro però con una promessa che avremmo eh a maxi costruito e completato intitolato una sala a Carlo Scarpa promessa mantenuta seconda che avremmo informatizzato l'archivio del padre con promessa credo marito mantenuta parzialmente va bene in prova sarà mantenuta e poi abbiamo acquisito gli archivi di Aldo Rossi di Nevi di Musmeci del Debbio e molti molti altri bene ehm io ricordo ancora un'altra cosa che che fece la Dark era quella di proporre una legge per l'architettura che promuovesse l'architettura contemporanea era un po' eh prendeva spunto dalla legge francese che ha un articolo uno che è assertivo determinante dice l'architettura è un'espressione della cultura noi avevamo fatto una proposta un po' più articolata l'avevamo messa o era andata in commissione parlamentare non se fatto nulla non so se ma ho sentito dire che forse sì che forse sarà fatta perché è una è una legge che ha un significato importante va bene io vorrei dare adesso la parola per quello che riguarda il censimento del patrimonio in primis a Fuglio Irace che sono ben contento di trovare qui con cui abbiamo collaborato abbiamo collaborato e ecco provincia anche dei rifogli e quindi Fuglio ti prego dai tu un riscontro alla grazie ma eh Pio sono reciproco il piacere perché ahm cioè ci sembra quasi una riunione di famiglia dei 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 reduci eh come dire parzialmente vittoriosi ecco quindi perché qualcosa si è fatto eh io ricordo il primo mh incontro che abbiamo avuto con te e soprattutto anche con Margherita all'epoca in cui si parlava appunto della dark del costruendo maxi delle ipotesi del grande archivio nazionale e forse Margherita l'avrà ricordato questa mattina credo nella biennale del duemila e quattro a eh significare che l'heritage è vivo e quindi non riguarda qualcosa che è morto e che ci interessa soltanto vagamente per studi storici ma che invece fa parte della progettazione quindi nella biennale d'architettura di Venezia eh nel padiglione Venezia un allestimento mi sembra di Pippo Giorra noi presentammo anche un un oggi si direbbe un trailer diciamo un piccolo video statico in realtà in cui si formulava una prima ipotesi di come si potesse concepire un censimento di queste architetture non protette dal quarantacinque ad oggi ecco da allora come il gruppo del che fa che faceva capo che fa capo tuttora al Politecnico di Milano eh insieme la Leila Ciacà e e altri amici ricercatori abbiamo continuato a lavorare e abbiamo poi avuto la fortuna anche qui di incontrare Carla Di Francesco nella sua felice e ancorché breve stagione milanese che ci ha dato un grande incoraggiamento nel rilanciare diciamo questo tema dell'archiviazione e coinvolgendo in questo anche la regione Lombardia. Il tema dell'archivio eh si poneva diciamo in una duplice come dire accezione e utilità possibilmente. Da una parte il desiderio di dare una dignità eh equivalente equivalente a quella degli edifici cosiddetti antichi al all'heritage moderna al patrimonio contemporaneo eh dopo che diciamo il patrimonio degli anni trenta del ventennio pensiamo terragni albini eccetera era stato già parzialmente riconosciuto attraverso anche eh il sovrintendente Artioli aveva promosso eh il primo forse restauro di un edificio contemporaneo che era la casa del fascio di Como quindi questo discorso era un po' entrato negli edifici di quel periodo ma era assolutamente come dire eh eretico eh per non dire scandaloso o o suscitava interrogativi la possibilità che si potesse tenere in considerazione edifici eh che tutti ritenevano come dire di normale uso no? Eh ancorché si parlasse di cacciadominione, di ponti, di asnagher vendere eccetera eccetera. Quindi era innanzitutto una una battaglia di conoscenza no? Carla Di Francesco stamattina ha ricordato io sono totalmente d'accordo che non esistono a sufficienza leggi di tutela che non passino per una consapevolezza di chi vive queste cose e purtroppo a Milano eh siamo in una situazione come dire ancorché tutti considerano Milano come il paese dei balocchi per cui ha questa grande scintillante vetrina europea però diciamo per quanto riguarda i temi di cui parliamo oggi siamo veramente in un grosso in un grosso ritardo in un colpevole ritardo grazie anche a queste diecimila leggi di bonus di controbonus non posso immaginare adesso l'effetto che potrà provocare questa nuova normativa che consentirà di far diventare i balconi verande pensiamo tutto il patrimonio diciamo razionalista fatto di piene e di vuoti quindi eh insomma è una una cosa abbastanza apocalittica quindi diciamo da una parte c'era il desiderio di dare dignità dall'altra quella di eh creare una zona d'attenzione cioè il pensiero era questo facciamo questo catalogo d'accordo con la sovrintendenza d'accordo con la regione Lombardia nella forse anche un po' ingenua o troppo ottimistica a pretesa che questo diventasse una sorta di eh sì proprio una 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 sorta di zona di controllo una zona di allarme perché è ovvio che nessun patrimonio si può conservare intatto eh è fisiologico diciamo la trasformazione l'adeguamento alle normative europee che ci affliggono quotidianamente eccetera eccetera quindi non possiamo bloccare tutto però possiamo forse creare delle regolamentazioni per cui anche un amministratore di condominio o un architetto incaricato da un condominio di fare dei lavori di ristrutturazione capisca il valore di quell'edificio no? Eh in parte questo diciamo è successo in parte eh no perché abbiamo addirittura nel duemila e venti nel duemila e ventuno che si sono di fatto demoliti due edifici di ponti che sembrerebbe inconcepibile un autore che è arrivato al massimo della della fama internazionale e i cui edifici vengono bellamente ignorati da una qualsiasi commissione edilizia però questi sono diciamo i problemi effettivamente di cui con cui noi ci scontriamo quotidianamente con interventi sul giornale lettere ai direttori eccetera eccetera per richiamare l'attenzione su questo patrimonio che è delicatissimo e che poi diciamo alla fin della fiera io adesso non ho misurato in termini statistici ma praticamente tutti questi edifici anche che stanno scorrendo sono alla fine neanche un decimo forse un ventesimo di tutto ciò che è stato costruito dal 45 ad oggi quindi anche la pretesa che questi pochi edifici che sono rappresentativi anche di un tempo storico di una maniera di costruire di un'ideologia di uno stile possono essere considerati degni di tutela in sé e quindi non oggetto diciamo delle attenzioni avide del real estate che ovviamente diciamo mira a trarre il massimo profitto eh molti di questi edifici o alcuni di questi edifici furono eh costruiti in aree che negli anni cinquanta erano marginali alla città pensiamo lo stesso quartiere a Rardessier vicino eh San Siro sorgeva in mezzo ai campi il gallaratese di Aemonine Rossi sorgeva in mezzo ai campi e che oggi invece si sono trovati a godere di una sorta di rendita di posizione con l'espansione della città quindi le mani sulla città sono sempre pronte diciamo a germire questo patrimonio che fa gola proprio per la sua eh posizione. Abbiamo cercato eh di eh ecco per esempio qui questo uno dei quartieri eh più belli e e forse non ancora valorizzati dal punto di vista stereografico che il quartiere Feltre eh diciamo capitanato da da Pollini e Gardella ma con una panoplia di nomi ecco come vedete De Carlo, Baldessari eccetera che rappresentava un po' il gota diciamo della del professionismo alto milanese e eh con questa parola professionismo voglio andare a un'altra questione che aveva posto Carughi stamattina nel suo question paper no? Il problema della letteratura ecco Ugo ha detto la letteratura giustamente ha una sua autonomia e indipendenza e la tutela che si deve assoggettare alla letteratura però bisogna anche aggiungere Ugo che la letteratura di per sé non basta perché quando noi abbiamo cominciato questo censimento se avessimo voluto seguire i criteri che ci stavamo dando della citazione bibliografica per esempio Ponti non compariva Baldessari non compariva mentre comparivano diciamo altri illustri architetti sconosciuti del suo tempo che avevano avuto maggiore frequentazione maggiore possibilità ecco di essere pubblicati e questo ci aveva posto ricordo diciamo eh la costruzione di questa piattaforma ha richiesto tempo e tu anche Alessandro ricordavi le riunioni abbiamo svolto diverse riunioni dei vari gruppi regionali per cercare attraverso dei seminari di capire noi stessi quanto questi criteri fossero importanti e se bisognasse aggiungere degli altri quindi è stata una questione molto sofferta molto dibattuta e comunque ci siamo accorti che in Nombardia come in Veneto come in Campania o Toscana eccetera questo criterio della citazione bibliografica valeva solo fino a un certo punto cioè la citazione bibliografica era la traduzione statistica di una fortuna critica dell'autore che però molte volte anche se non indipendente non strettamente legata al valore delle opere un altro tema che diciamo si intrecciava a questo era che alla fine diciamo la verità tutte queste opere che noi stavamo classificando cos'erano delle fabbriche la maggior parte erano delle residenze condomini silenziali cioè le forme sociali dell'abitare avviate diciamo nella ricostruzione e nel dopoguerra e parlo soprattutto per la Lombardia che è il caso che conosco meglio il nucleo anche abbastanza ristretto in quei tempi della degli architetti perché non c'erano 3.000 architetti in Lombardia come ce ne sono adesso forse addirittura 5.000 ma un numero più ristretto formavano una sorta di comunità una comunità diciamo che si guardava magari si odiavano però dialogavano si guardavano andavano nelle trennare andavano la permanente avevano delle esposizioni c'erano dei dibattiti che era riuscita a tradursi in quello che abbiamo chiamato storiograficamente un professionismo colto ora questo termine professionismo è un termine che fino agli anni 90 è stato un discrimine profondo cioè professionismo pensiamo alla Casabella di Gregotti era una sorta di come dire tradimento della missione altamente spirituale intellettuale civile dell'architettura cioè professionista era uno che aveva ceduto le atti e Vittorio Gregotti in un'intervista che gli avevo fatto per un film realizzato su Gio Ponti a un certo punto dice con grande candore quindi non fingeva neanche perché insomma era proprio una cosa che veniva dal cuore dice ma perché continuate a parlare di Gio Ponti che è stato un professionista mediocre che seguiva le mode no e quindi parliamo anche qui degli anni 2000 quindi riabilitare diciamo questo concetto del professionismo è stato un problema diciamo molto insomma molto difficile però credo che da questo punto di vista questa sia stata una battaglia vinta perché la letteratura che c'è oggi quindi a distanza di 15 20 anni dai nostri esordi su questi protagonisti è una letteratura che è cresciuta non solo in Italia ma è cresciuta all'estero abbiamo gruppi di studenti ricercatori soprattutto dall'ETH di Zurigo per esempio della Svizzera che vengono in tour a visitare le architetture di questo cosiddetto professionismo milanese creando addirittura un piccolo culto diciamo dell'autore e quindi questo credo che sia un effetto anche del lavoro che proviene dalla dall'idea del censimento. Un'ultima cosa vorrevo dire a proposito prima di cedere la parola alla mia collega Leila Chagà ecco un riferimento a questo tema che è il censimento degli archivi di architettura a cui poi si aggiungeranno dell'architettura del design e della grafica nelle prossime edizioni anche quello della moda questo è il primo numero e che è uscito nel 2003 è significativa anche la coincidenza col 2004 che abbiamo citato prima per la prima abbozzo della piattaforma perché è questo con questo veramente concludo il credo che i due temi censimento delle architetture censimento delle fonti archivistiche devono marciare intrecciati lo richiede la logica la logica storica la logica di ricostruzione lo richiede anche la logica della tutela quando eh Carla De Francesca è stata una protagonista in questa c'è stato l'incidente dell'aereo del signor Fasulo che dalla Svizzera si è schiantato sulla facciata del Pirelli la ricostruzione del Pirelli filologica del Pirelli è stata resa possibile dalla disponibilità dei fogli di studio che sono conservati all'Oxac di Parma quindi diciamo il più importante deposito per quanto riguarda ponti quindi gli archivi servono non soltanto alla storia ma servono anche alla alla all'attualità dell'architettura e quindi eh ecco questo con questo appello ecco vorrei rilanciare proprio questa eh necessità di eh di eh procedere parallelamente. L'ultima edizione che ha curato Leila Chagà degli archivi è uscita due giorni fa nel numero diciannove dei quaderni del CASVA e eh i numeri eh diciamo delle fonti censite sono significative sono passati dai circa centoquaranta della prima edizione alle duecentotrentotto dell'ultima edizione eh un'ultima veramente ultimissima cosa eh perché stamattina si è parlato del digitale il digitale eh ci ha dato un impulso straordinario a superare un'altra aporia che stava un po' dentro eh la questione degli archivi eh più ancora quando voi compravate eh l'archivio Rossi si pensava al Maxi come l'archivio il Museo Nazionale dell'architettura sulla scia per esempio di quello che c'è a Rotterdam no? Ecco eh scontrandosi però subito con delle difficoltà politiche culturali eccetera eccetera perché va bene questo non dobbiamo non c'è necessità di ripercorrerlo. La stessa cosa con gli archivi quando all'inizio no lei la chiedevamo eh anche ai privati di dichiarare i loro archivi c'era una eh diffidenza enorme perché la dichiarazione eh e comparire diciamo all'interno del 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 censimento sembrava quasi come se loro dovessero donare allo Stato. Ecco eh poi di questo parlerai tu ma la eh internet e la possibilità di costruire dei sistemi attivi a rete dove tu cioè entri nell'archivio digitale ma puoi navigare e puoi passare dall'architettura alle fonti che poi ovviamente sono anche in luoghi geograficamente diversi per noi è stata diciamo una 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 scoperta fondamentale che credo dovrebbe essere inclusa in una futura carta archivistica di lavoro. Grazie. Grazie Fulvio che hai parlato sia di Lombardia sia di Italia sia di temi generali di archivi di conservazione c'era è vero tu da per tu sì tu da per tu hai spaziato su tutti gli argomenti che sono poi qui messi in causa. Adesso la parola a lei la Chagà architetta anche ma qui siamo quasi tutti architetti dottorata in conservazione ricercatrice eh deputato assessore va beh mille mille un curriculum ricchissimo prego. Sì grazie per la per la presentazione ehm continuando il discorso che faceva il professor Irace riguardo all'approccio che i proprietari degli archivi avevano con noi nel momento in cui ci presentavamo per questo lavoro effettivamente c'è stata un'evoluzione rispetto al lavoro del duemila e tre quindi alla prima edizione del censimento all'ultimo lavoro del duemila e ventuno nel senso che abbiamo riscontrato molta più disponibilità da parte dei proprietari dell'archivi a essere presenti in questo censimento perché per per molti di loro era anche diciamo così motivo di orgoglio no fare parte di un censimento nazionale eh in alcuni casi c'è stata anche la possibilità di donare questi archivi per esempio al CASVA o piuttosto che al Politecnico di Milano quindi è stata anche l'occasione per stabilire delle relazioni con queste persone alcune delle quali non avevano neanche sempre necessariamente contezza del valore di questo materiale per cui anche il discorso che faceva stamattina la professoressa Conforti dicendo che è quasi impossibile trovare la documentazione a corredo dei disegni quindi carteggi capitolati la documentazione economico finanziaria ecco quando noi ricercatori eh prendiamo contatto con abbiamo preso contatto con i proprietari degli archivi facevamo anche un'operazione di sensibilizzazione a riguardo del tipo non buttate via niente no perché c'è sempre la tentazione di mantenere solo il disegno come elemento diciamo ritenuto di maggior valore di maggior qualità rappresentativo del progetto e magari anche banalmente per esigenze di spazio di buttare via il resto quindi significato di questo lavoro al di là diciamo del censimento in senso stretto è stato quello anche di un'azione di sensibilizzazione eh riguardo a questi temi e soprattutto anche al mantenere unito l'archivio perché molti hanno la tentazione di smembrarlo non so la biblioteca la dono alla biblioteca della mia città i disegni li do magari eh al centro pompidù piuttosto che cioè di fare un po' uno spezzatino cosa che da un punto di vista archivistico assolutamente eh è da evitare proprio perché si perde il senso proprio del lavoro anche eh del professionista eh dell'architetto eh questo lavoro di censimento degli archivi è stato fatto in collaborazione con appunto eh collaborazione tra avete visto prima i loghi il Politecnico di Milano il Casva del Comune di Milano e la soprintendenza archivistica della Lombardia e questo è molto importante perché il lavoro è stato poi riversato nella banca dati della Lombardia Beni Culturali in cui c'è il censimento degli archivi nel caso in cui alcuni di questi archivi abbiano un inventario eh di dettaglio che è stato riversato eh sempre in Lombardia Beni Culturali c'è la possibilità quindi di risalire anche proprio al all'inventario e poi l'altra è stato naturalmente poi riversato anche nel San nel sistema archivistico eh nazionale e poi abbiamo creato quella connessione che si diceva prima tra il censimento delle architetture e il censimento degli archivi per cui da il censimento delle architetture è in Lombardia eh beni culturali e quando si arriva alle fonti d'archivio queste non sono semplicemente indicate ma sono linkabili per cui c'è la possibilità poi saltare direttamente a Siusa piuttosto che al San e quindi c'è questa relazione molto forte e eh e molto e molto importante e eh un altro lavoro che abbiamo fatto molto interessante è stato fatto nell'ambito di un print del 2008 dove abbiamo studiato delle interfacce grafiche per gestire al meglio queste relazioni andando oltre quindi una descrizione meramente testuale cioè che quello di riportare la scheda di catalogo direttamente in rete ma di individuare delle modalità di consultazione anche dinamica dei dati contenute contenuti nelle schede quindi non solo le mappe geografiche ma anche le linee del tempo ma anche le relazioni per esempio questo l'abbiamo fatto per l'archivio digitale di Luciano Baldessari tra eh progett tra il progettista i suoi collaboratori committente l'impresa per cui c'è una navigazione dinamica che consente in maniera sintetica e veloce di avere delle visualizzazioni che riportano la complessità dei dati dell'archivio e danno anche possono offrire anche degli spunti per la per la ricerca storica volevo dire un'ultima cosa se possiamo tornare su un'immagine di un'architettura ecco questa perché colgo colgo l'occasione per ringraziare il direttore cutaia che ha firmato il riconoscimento del diritto d'autore eh su questa architettura che era a rischio di demolizione cioè noi questa questo edificio che era una scuola elementare l'avevamo inserito nel censimento quindi già nel duemila e dodici la scuola è stata dismessa nei primi anni duemila è stata realizzata un altro edificio poco distante e quindi l'amministrazione comunale comune di calozio corto a un certo punto eh di fronte al problema per loro insuperabile ma che di fatto non lo è delle cosiddette termine molto brutto barriere architettoniche eh voleva demolire l'edificio radderlo al suolo per realizzare la palestra perché la scuola che avevano fatto guarda caso benché fatta recentemente oltre al fatto che ha problemi già dal punto di vista costruttivo non avevano pensato di farci la palestra no? Allora l'idea geniale demoliamo questo e facciamo qui una bella una bella palestra. Allora eh ci siamo mossi come come eredi fortunatamente l'architetto Giorgio Zenoni era l'unico dei progettisti ancora in vita e devo dire grazie anche al supporto del soprintendente Stolfi eh abbiamo attivato la procedura per riconoscimento del eh del diritto d'autore per un'opera che è molto interessante dal punto di vista lo vedete da questa immagine dell'inserimento nel contesto nel paesaggio tema tra l'altro adesso molto attuale eh della perizia costruttiva perché di fatto eh è ancora oggi in ottimo stato di conservazione eh a dispetto degli anni di abbandono e soprattutto dell'inno dello studio tipologico nell'organizzazione della spazialità interna dell'edificio scolastico con una galleria che disimpegna spazi collettivi e aule eh in duplex su su più livelli quindi diciamo questo è un esempio positivo a fronte di altri negativi che sono stati citati prima eh della possibilità di eh tutelare questi edifici certo il primo step perché adesso si tratta di elaborare un progetto di riuso perché giustamente non si può vincolare e tenerlo lì infatti questo mi chiedo ecco chiedo anch'io quando eh si applica il diritto d'autore o anche il vincolo poi bisogna pur pensare a cosa fare dopo dell'edificio dell'edificio non è che deve restare così no esattamente poi poi se no non ha manutenzione non è utilizzato va in rovina e vandalizzato ci vanno dentro a dormire cioè serve contemporaneamente diventa un boomerang perché poi ecco l'avete vincolato ma tanto non serve e infatti stiamo elaborando eh un progetto di riuso per ricavare perché questa è l'esigenza che ci è stata posta dal comune dei mini alloggi per persone in situazione di facilità da la cui gestione sarà affidata a una cooperativa eh del territorio che già si occupa di questo quindi diciamo lo il passo successivo mi sembra molto intelligente e necessario altrimenti è inutile il vincolo è controproducente io dopo parlerò un po' contro ma un conto del vincolo in modo un po' critico so che la il discorso qui è impopolare ma lo farò comunque va bene grazie mille e la parola a sì eh a cristiana volpi professore che no io sono roberta martinis ecco però qui nella nella scaletta c'è la parola a trentino l'autorologio e cristiana volpi c'è a domani allora roberta martinis sì sì va bene prego allora intanto eh voglio fare i eh dei complimenti quasi invidiosi al gruppo milanese che eh che ha ottenuto tutto questo eh come dire questo questi risultati così efficaci proprio grazie direi proprio alla continuità del lavoro attraverso le varie campagne di censimento e che non ha riguardato il nostro caso io ho coordinato il gruppo del del Veneto e del Friuli con responsabile scientifico era eh è stato Francesco Dalco per la prima campagna e collaboratori poi Luca Scansi e Matteo D'Ambros e però ci siamo fermati alla prima campagna quindi così io sono un esponente dei dinosauri di questo di questo primo di questo primo passaggio e e vorrei fare semplicemente alcune considerazioni ehm noi ehm che 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 coinvolgono in qualche modo eh anche un mancato come direi coordinamento nel tempo delle campagne di del censimento che peraltro ricordo è censimento e selezione quindi non è un censimento a tappeto ma è una selezione noi allo Uav nel duemila e quattro credo più o meno abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo proposto immediatamente e credo siamo stati gli unici in quella tornata di lavoro abbiamo proposto di ehm di veicolare le schede attraverso un web GIS ovvero il la Dark all'epoca chiedeva semplicemente dei dischi e del cartaceo da archiviare mentre i nostri il il centro di cartografia che allora era guidato da Marisa Scarso ci propose invece la messa a punto di un sistema all'epoca assolutamente innovativo per noi oggi è banale naturalmente però in quel momento noi abbiamo prodotto qualcosa di ehm di cui siamo stati molto fieri che era un web GIS per le regioni del del Veneto dei Friuli a cui si è appoggiata anche la schedatura della prima tornata del Trentino Alto Adige con Marco Murazzani questo web GIS naturalmente non è stato manutenuto dal dall'università quindi sappiamo tutti che i i i siti sono vanno in obsolescenza e e e non è più stato utilizzato però c'è stato una sorta di disallineamento perché nel duemiladiciannove io ho parlato con il rettore Alberto Ferlenga a proposito della possibilità di riesumare quanto possibile di quelle web GIS e e nel frattempo però erano state avviate altre campagne parallele di eh altre campagne di censimento che sono state efficaci eh fatte benissimo ma non ci siamo non c'è stato alcun coordinamento per cui il nostro web GIS che poteva essere messo a disposizione era implementabile e anche messo di poteva essere messo a disposizione delle altre regioni degli altri gruppi regionali è rimasto invece eh quindi è rimasto abbandonato e solitario ci ho detto io sono comunque felicissima che tutto questo materiale sia stato versato in un unico sito quindi trovo che questo sia eh assolutamente meraviglioso ma faccio presente che le nostre schede del nostro web GIS non sono state versate correttamente quindi ci sono delle schede estremamente sintetiche che non danno assolutamente conto del lavoro invece molto più complesso che noi all'epoca abbiamo fatto quindi prego invito chi si sta occupando invece di questo del del sito di cercare di recuperare le informazioni della loro completezza il altri altre questioni naturalmente che pongo eh in condivisione e all'epoca eh l'esito appunto di questa di questa schedatura per noi sono stati alcuni studi lo studio monografico di Luca Scanzi poi su Gino Valle che come dire che ha approfondito appunto il tema dell'architettura tra Veneto Friuli così come anch'io nel mio piccolo poi mi sono occupata invece di approfondire Angelo Masieri e poi i miei studi su Carlo Scarpa sono figli in qualche modo di quella schedatura il una schedatura che eh che eh che però in forse eh poi il tema di domani anche eh di cui andrebbero meglio forse chiarite definite eh le eh le finalità cioè bisognerebbe a parer mio forse produrre proprio una corrispondenza eh più evidente più aderente con delle linee guida che eh che facciano capo alle sovrintendenze certo abbiamo problemi del diritto d'autore non possiamo vincolare tutto lo sappiamo però cercare di eh come dire di 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 stringere in modo più aderente perlomeno la conservazione di questi edifici quindi di cercare di implementare queste buone pratiche di cui certamente il la schedatura eh il censimento è eh capostipite un una questione salto un po' di da una regione all'altra però la questione del diritto d'autore e comunque del censimento è fondamentale la precisione anche della schedatura all'interno del censimento perché eh mi sono trovata recentemente per i miei studi su Carlo Scarpa a confrontarmi con il la fake news di eh del di Villa Tabarelli a Bolzano mi sono appena confrontata con il gruppo del Trentino che è stata attribuita e che sul New York Times magazine eh appare attribuita esclusivamente a a a Carlo Scarpa e mentre è un edificio esclusivamente Scarpa non c'entra niente è andato solo a fare un a vedere il cantiere di Sergio Los una volta tornato dal viaggio in Canada ma eh viene adesso si inizia a circolare un'attribuzione a Scarpa a scapito di Sergio Los quindi è importante che come dire che anche la schedatura con i reporti con sé una precisione e che possa consentire anche alle eh alle soprintendenze di fare capo a una a una certa documentazione e raccomando infine la eh di datare le schede cioè tutti i passaggi delle schede non solo l'ultimo versamento perché eh nel momento in cui eh nella prima schedatura noi abbiamo rilevato lo stato dell'edificio quello è uno stato di edificio di vent'anni fa almeno e che quindi non è più tale quindi è bene che eh risultino assolutamente datati tutti i passaggi di schedatura ciò che non si appiattisca tutto quanto e l'ultimo tema che è quello del criterio bibliografico che Fulvio ha sollevato e che su quale abbiamo discusso molto e che eh ci era apparso fin da subito un criterio non esclusivamente utilizzabile per la selezione volevo proporre rapidamente però dal 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 Friuli tre esempi assolutamente eclatanti uno era Casa Pozzi Migotto di Ginovalle a Udine che è un edificio del 1953-54 che per volontà dello stesso Ginovalle è passato in secondo piano per privilegiare invece la contemporanea Casa Quaglia su cui erano stati scritti invece saggi su Casabella, Lotus, Architectural Design quindi è stato lo stesso autore che ha quindi che ha messo in secondo piano uno dei propri progetti. Un altro caso è quello di Casa Puia di Edoardo Gelner a Trieste non è quasi mai apparsa nel nella stampa specializzata nelle bibliografie perché si trattava di un abuso edilizio per cui in quanto tale era meglio non parlarne. e quindi è rimasta in secondo piano e terzo invece un esempio ex contrario è l'ampliamento dell'ospedale di Venezia di Luciano Semerani che direi nessuna campagna sul Veneto ha ritenuto di inserire tra le opere della selezione ed è un edificio invece che ha goduto una straordinaria fortuna sulla stampa specializzata quindi la bibliografia negativa il famoso articolo di Cacciari su Casabella contro l'ospedale ma con tantissimi articoli e quindi se dovessimo far conto solamente sul piano bibliografico l'ospedale di Semerani sarebbe dovuto entrare all'interno della selezione. È chiaro che c'è invece un atto critico in mezzo che è stato compiuto appunto da chi ha lavorato e coordinato e ha ragionato intorno al tema della selezione. Passo la parola a Paola Placentino che ha lavorato sul Veneto con la quale siamo assolutamente in liquido. Buonasera a tutti. Prima di iniziare premetto che questo lavoro è stato condotto di censimento del Veneto è stato condotto in collaborazione strettissima con Martina Massaro che ringrazio e mi aggancio proprio alle ultime osservazioni fatte da Roberta Martinis cioè quelle legate alla a quanto conti la letteratura la fortuna critica dell'opera. Le opere che state vedendo che ovviamente rappresentano un minima parte quelle di cui ci siamo occupate vogliono restituire il fulcro di alcune di alcuni problemi che abbiamo avuto nel corso del censimento problemi proprio nella rispettare i criteri. Le foto che state vedendo sono tutte state scattate da noi che siamo andate a direttamente a vedere tutte le 100 architetture censite lo sto precisando perché questa è una cosa a nostro parere imprescindibile non è pensabile registrare non soltanto registrare lo stato di fatto dell'opera ma anche è necessario per una corretta lettura dell'opera. Abbiamo scelto di mostrarlo in bianco e nero le opere perché per dare un sottolineare in modo particolare in questa occasione l'importanza che ha avuto per noi il lavoro d'archivio e quindi vedrete scorrere immagini di disegni di architettura a colori. L'archivio è qualcosa che è entrato prepotentemente in questa seconda fase del censimento del Veneto perché ci siamo trovati dopo aver posto l'attenzione sui grandi maestri ci siamo rese conto di avere un territorio ricco di anche piccoli interventi ma di grande interesse di grande qualità architettonica che non avevano ecco torno alla letteratura e alla fortuna critica degli oggetti di studio che non avevano minimamente bibliografia. In questo caso quindi ecco proprio la Diform che state vedendo in questo caso ci è stato di grandissimo aiuto l'archivio degli eredi Perego che hanno conservato le carte di Enrico Perego e che ci hanno messo a disposizione i disegni. Senza questi disegni non sarebbe stato possibile per noi comprendere la qualità di questo progetto. Un progetto dove Enrico Perego va a progettare l'intera facciata. Tutte queste scatole stereometriche bianche che vedete sono il frutto di un progetto che integra il sistema delle facciate con il sistema costruttivo. E appunto è qualcosa che abbiamo potuto scrivere nella scheda solo per aver consultato direttamente i disegni. Perego mi dà l'occasione per parlare anche tra gli anni tra il 45 e gli anni 20 del 2000 parlare anche della sperimentazione con i materiali con le tecniche costruttive. Una sperimentazione che ecco vedete un altro esempio che ha interessato il Veneto completamente anche in piccole località di provincia come in questo caso a Trissino dove Antonio Nervi realizza un sistema di connervature incrociate per l'aula dei fedeli e delle volte paraboliche in calcestruzzo armato per l'area presbiteriale diciamo l'area sull'altare uno un attività di sperimentazione che nel territorio del Veneto interessa grandi strutture come questa chiesa di San Pietro Apostolo ma anche piccolissimi edifici. Con il tema accanto con il tema della della sperimentazione c'è anche ci siamo confrontate anche con l'analisi di architetture di professionisti che avevano lavorato moltissimo nel ventennio e che quindi si rimettono in gioco dopo la seconda guerra mondiale a piccoli passi. Molti di loro di quelli che abbiamo incontrato procedono affiancando all'attività di progettisti come il caso qui si di Quirino De Giorgio affiancono all'attività di progettisti un'attività imprenditoriale nel mondo edile proprio per superare le difficoltà nel realizzare difficoltà sia nel realizzare opere che avessero una componente di sperimentazione con il calcestruzzo armato più alta. È proprio il caso del cinema che state vedendo Mantegna dove appunto questi grandi sbalzi delle gallerie richiedevano l'utilizzo di nuovi sistemi di perigetti di calcestruzzo armato difficoltà a volte anche incontrate proprio per l'esperienza precedentemente avuta all'interno del ventennio. Poco fa avete visto il disegno di Mansutti e Miozzo per Coin a Padova. In quel caso come in questo caso nel caso di Quirino De Giorgio abbiamo inserito uno dei tanti disegni consultati al Mart di Rovereto e sono ancora edifici stranamente Quirino De Giorgio è certamente un architetto meno noto di Mansutti e Miozzo ma anche nel caso dell'edificio della Coin a Padova abbiamo una quantità di materiali, un cambiamento del progetto in base alle esigenze proprio del magazzino e della sua relazione con il territorio urbano, con il contesto urbano che non è pensabile affrontare proprio se non ci si rivolge agli archivi di architettura. Quindi abbiamo avuto, abbiamo dovuto confrontarci sia con archivi ormai istituzionalizzati, quello del Mart, quello di Quirino De Giorgio che è stato donato dallo stesso Quirino e da sua moglie al comune di Vigonza e che quindi per i quali è garantito un accesso e una consultazione ma nel caso di Perego ci siamo trovate anche di fronte ad archivi assolutamente ancora in mano agli eredi degli architetti privi di alcun tipo di vincolo di protezione che comunque sono assolutamente fondamentali perché ecco abbiamo ora un altro caso Alfeo Paoletta sono assolutamente fondamentali perché parliamo di opere di cui non esiste letteratura, non c'è una bibliografia di partenza. Questo è un altro di quei di quei piccoli gioielli incontrati sul territorio. Alfeo Paoletta un architetto artista urbanista istriano che si trova a lavorare a Lido di Venezia per un albergo ma in un momento cruciale per le trasformazioni che che Lido stava subendo a causa della interessi speculativi che si stavano incrementando intorno alla volontà proprio di trasformare il Lido in un luogo ad intensa e quasi esclusiva già in quegli anni attività turistica. Alfeo Paoletta grazie ai suoi committenti va in una direzione completamente opposta e quella ringhiera che vedete in primo piano è una ringhiera con due essenze di legno per dirvi a che scala riesce ad arrivare la qualità del progetto di questo architetto assolutamente finora rimasto assolutamente ai margini. Come analogo al caso di Alfeo Paoletta a Lido di Venezia c'è la casa, la Villa Schmutz ad Albarella di Darrell Flieger che affronta in un altro modo quel tentativo di tenere insieme la tradizione costruttiva locale con la contemporaneità e quindi vedete da questa sezione ancora qui il foglio che state vedendo è frutto delle ricerche fatte con gli archivi dei progettisti. La sezione ci fa vedere come Darrell Flieger confrontandosi in questa area di margine d'acqua provi a nutrire la sua progettazione con spunti che vengono dai casoni delle aree lagunari con quest'idea del camino fulcro centrale del progetto come nei progetti di Frank Lloyd Wright ma rileggendo tutto in chiave assolutamente locale. Abbiamo quindi accanto a tutti questi temi che vedete riassumono un po' tutte le osservazioni che sono state fatte nella giornata di oggi anche dei panel di questa mattina fino a un attimo fa un altro tassello che si pone con urgenza è quello della conservazione con il riuso ed è questo il caso il progetto di Libero Cecchini in Palazzo Mosconi si pone con urgenza proprio perché qui ad esempio siamo di fronte ad un ad un progetto di altissimo livello dove Cecchini va ad intervenire su un palazzo cinquecentesco con con presenze di tracce romane e medievali un'aria bombardata dalla seconda guerra mondiale prova a tenere insieme tutto utilizzando delle strutture progettando con Silvano Zorzi delle strutture in calcestruzzo armato quindi un progetto davvero straordinario per i materiali per la cura con cui si va a occupare anche della conservazione della parte più antica quella che vedete attraverso diciamo l'oblò della finestra ma negli anni duemila l'immobile viene venduto messo all'asta frazionato adesso è in stato di abbandono uno stato di abbandono che ha portato già alle corti interne a dei danneggiamenti e la vendita è stata effettuata per parti e tutto fermo sì ma nel frattempo l'immobile è in via di deperimento quindi questo è un altro mi sto ripetendo è un altro perché un altro di quei temi che abbiamo affrontato nella giornata di oggi ma abbiamo vi sto sottoponendo proprio questo perché qui davvero c'è il punto di incontro di tanti temi che si ritrovano tutti insieme nel nell'architettura di Libero Cecchini ultimi due esempi per il Veneto il un progetto di co-housing di TAM associati perché ecco questo è un progetto che introduce un altro argomento di discussione a nostro parere c'è un progetto che ci ricorda quanto sia importante anche la conservazione nell'agire con il nuovo la conservazione del del territorio siamo ai margini a Villorba nella periferia di Treviso il progetto di TAM associati è proprio un progetto che tenta di unire la conservazione del delle qualità spaziali e paesaggistiche del contesto andando a nutrire il loro progetto degli spunti compositivi tratti dall'architettura tradizionale il borgo rurale Veneto ultimo esempio per chiudere visto che poi anche oggi ne abbiamo parlato diverse volte eh una delle vatican chapels all'isola di San Giorgio perché questo è proprio un felice applicazione della legge sul diritto d'autore eh che eh è proprio stata utile a vincolare prestissimo un'opera che eh meritava eh di essere protetta vi ringrazio grazie Paolo Pallocentino e ora fa parola al professor Paolo Belardi che andiamo radicalmente in zona italiana in Umbria eh presidente del corso di laurea in design dell'università di Verugia se non prego professore a lei Buonasera a tutti grazie per il coinvolgimento nel censimento è stato molto importante poi spiegherò perché e grazie anche per questo invito questa giornata è veramente molto utile per capire tante cose eh io farò una presentazione un po' diversa nel senso che ho pensato di dare una spiegazione del difficile rapporto che ha l'Umbria con l'architettura contemporanea spiegando le ragioni perché quelle vanno capite e poi mi permetterò di fare tre proposte operative che ho pensato oggi sulla scia delle vostre notazioni nei diversi panel eh quando si parla di architettura eh recente diciamo in Umbria eh bisogna tener conto del grande debito che la mia regione la mia terra ha con la cultura moderna in generale e con la cultura e con l'architettura moderna in particolare ma c'è una ragione molto precisa l'Umbria dal 39 dal 1139 al 2007 non ha avuto una scuola d'architettura e questa è una cosa molto importante tra l'altro è importante il modo in cui si interrompe la scuola di architettura dell'Accademia di Belle Arti di Perugia che forse lo sapete è la seconda più antica al mondo dopo Firenze quindi è una grande tradizione nel settecento intraprende una scuola apre una scuola d'architettura e nei primi del novecento questa scuola d'architettura era diretta prima da Ugo Tarchi e poi da Pietro Angelini che erano sono stati due architetti che hanno fatto cose molto importanti in Italia nel mondo ma soprattutto in Umbria eh con una vocazione lo sapete tutti schiettamente vocata allo storicismo all'eclettismo e creano una serie di allievi questi allievi nel frattempo diventano professori della scuola d'architettura fino a quando nel 38 per la prima volta c'è un vagito di modernità in Umbria perché improvvisamente viene chiamato come direttore della scuola d'architettura Manfredi Franco da Napoli e lui porta una ventata di architettura moderna se si vedono i disegni in Accademia io ho avuto la fortuna di fare direttore dell'Accademia alcuni anni fa e ho potuto studiare bene questi disegni fino al 38 ci sono temi retorici temi monumentali poi improvvisamente nel 38 arriva Manfredi Franco i temi sono stadi sportivi stazioni ferroviarie stazioni di servizio quant'altro con un linguaggio improvvisamente dirompente schiettamente moderno purtroppo però nel 39 il ministero dell'educazione eh ministero dell'educazione nazionale sopprime definitivamente le scuole d'architettura nelle accademie l'università di Perugia voci di corridoio non ci sono documenti ma voci di corridoio sembra parlino della eh classica eh ingerenza della facoltà di medicina che non voleva perdere potere sappiamo come fanno queste cose l'Umbria incredibilmente non apre una facoltà di architettura non l'attiva ora che cosa avviene? Avviene che i migliori allievi che avevano respirato l'aria moderna si trasferiscono a Firenze e a Milano e li rimangono quelli che se lo potevano permettere quelli che non se lo potevano permettere passano alle scuole di pittura e scultura e questa è anche una delle ragioni per cui la pittura nella scultura l'Umbria invece l'aria moderna l'ha respirata ma non in architettura e questo fa sì che i professionisti che sono che operano in Umbria sono tutti a vocazione con la vocazione dello storicismo e lavorano in un modo che conoscete sapete perfettamente che sulla scia di Tarchi secondo me anche il 50 per cento dei nostri centri storici sono falsi come i soldi del Monopoli ma la gente non lo sa ama quelle cose e comincia a confondere quelle cose con i rigurgiti neovernacolari che poi si hanno nel secondo dopoguerra in Umbria perché racconto tutto questo perché vedete facendo il censimento ci ha impressionato quante opere invece di architettura schiettamente contemporanea recente contemporanea di qualità ci sono l'elenco è lunghissimo lo possiamo fare partendo da abbiamo cose di Enrico del Debbio sono tutte certo opere puntuali perché sono dei passaggi episodici degli incarichi episodici Enrico del Debbio Giancarlo De Carlo Vittorio De Feo Aldo Rossi Marco Zanuso un piccola una piccola scuola che abbiamo scoperto pressoché sconosciuta dalle parti di Gubbio anche a questo è servito il censimento e via via fino ai più recenti Renzo Piano Giannouvelle Massimiliano Fuxas Mario Botta fino a Bollese Wilson a Perugia per Monteluce però tutte queste cose non vengono viste perché la cultura è di un certo tipo non vengono attenzionate di questo parlerò fra pochissimo sono invisibili praticamente si potrebbe fare qualcosa intanto la prima cosa da dire è che questo è un se non sembra avete parlato del dark sembra the dark side of architettura contemporanea però non è semplicemente questo ci siamo impegnati nel 2007 è stato attivato un corso di aula magistrale in ingegnere di architettura che stiamo cercando di portare verso l'architettura ma i colleghi ingegneri sono sempre molto resti da questo punto di vista abbiamo aperto a scuola di design e una magistrale in planet life design ad assisti quindi forse nel prossimo censimento si vedrà qualcosa ho detto tutto questo perché in realtà queste opere spesso eccellenti come ci suggeriva noi parametri sono annegate in un mare di edilizia non soltanto talvolta mediocre come avviene nelle altre realtà regionali ma nel nostro caso con finti casolari rurali c'è la sindrome da mulino bianco in umbria questa è una cosa che è abbastanza evidente per chi legge il territorio con una certa attenzione quindi la scuola sarebbe servita e servirà per creare un humus un pochino più di livello un pochino più alto rispetto a quello che avviene le tre notazioni la prima notazione è una banalità ma la dico sulla scia del censimento avevamo già iniziato prima ma poi l'abbiamo fatto perché avevamo molto materiale citando sempre il censimento quindi abbiamo scritto degli articoli su dei quotidiani divulgativi e si è assistito al fenomeno curioso che abbiamo ricevuto tante telefonate richieste poi abbiamo dovuto dare anche indicazioni stradali per raggiungere queste opere perché poi la gente se tu le cose gliele spieghi comincia a vederle perché l'occhio vede quello che la mente conosce che nessuno glielo dice allora forse delle guide regionali non dico nazional popolari ma un pochino più semplici accessibili fatte in un certo modo forse da parte del ministero perché i soldi in umbria per questo non ce ne dà nessuno sicuramente l'attuale governo regionale potrebbero servire molto perché è un problema proprio di sensibilità culturale la seconda notazione riguarda quello che si diceva questa mattina circa eh l'attenzione di confrontarsi con il progettista ancorché vivo io so abbastanza vivo almeno per il momento e a me per esempio c'ho un'opera lì dentro è stata manomessa ma nessuno mai chiesto niente però c'è una cosa noi pensiamo sempre alle soprintendenze al ministero al comune però c'è l'ordine professionale perché mi sembra di ricordare che se il progettista è ancora in vita e tu intervieni su un'opera è un dovere deontologico di confrontarsi con lui quindi in questo caso secondo me sono gli ordini professionali che oltre a organizzare corsi di formazione e spade di calcio forse dovrebbero un pochino riprendere per la giacchetta i propri iscritti quando si verificano fenomeni di un certo tipo l'ultima cosa che dico la dico come delegato del rettore del mio ateneo al patrimonio si parlava di vincoli io non so se niente vincoli tutti vincoli forse si riserva un intermedio spiego perché noi abbiamo a perugia io non l'ho avete visto qualcosa questo tomasso buzzi un acuto un po' strano per l'umbria e noi abbiamo due campus universitari firmati da giuseppe nicolosi fra gli anni 50 e gli anni fine degli anni 70 edilizia come la conoscete si parlava per esempio di impatto tecnologico diceva di parlare no anche in questo panel nicolosi ha insegnato concretamente a usare il laterizio in modo sapiente modo meraviglioso nessuno l'ha seguito perché non c'era una scuola lui arrivava lavorava andava in cantiere e tornava a roma analogamente l'innovazione tipologica di de carlo e de feo a terni col villaggio matteotti la scuola per geometri non ha avuto riscontro perché è mancata una scuola forse tornato indietro poi arriva la terza proposta perché mi ero perso questo passaggio lo voglio dire sapete la cosa che più ha fatto scuola in italia nel mondo che è stata realizzata in umbria è il progetto della mobilità alternativa del comune di perugia quindi la risalita meccanica della rocca paolina il mini metro di jean nouvel e altre idee che stanno tuttora mettendo in campo sulla scena di ciò che è stato pensato negli anni settembre però la mia proposta come delegata al patrimonio mi è successo questo noi abbiamo due aule magne eccellente quelle sono vincolate va bene poi abbiamo tutta una serie di sedi di dipartimenti di istituti che sono di grande qualità si parlava di contesto stamattina come contesto noi l'abbiamo attenzionati però non sono vincolati di conseguenza che cosa avviene il vincolo non è soltanto una cosa per rispettare l'infisa c'è un riscontro per esempio in una zona sismica come l'umbria per cui io mi sono trovato a dover bloccare dei consolidamenti degli adeguamenti sismici che prevedevano sulle opere nicolosi la rete elettrosaldata e l'intonaco perché l'adeguamento spesso impone delle cose di questo tipo o talvolta suggerisce dei voli pindarici di performance tecnologica da parte degli strutturisti se invece queste opere per esempio fossero state vincolate noi avremmo potuto limitarci a un miglioramento sismico che va sicuro sarebbe stato molto più che sufficiente e questo secondo me è un tema assolutamente centrale perché è una cosa poi si parla di sicurezza e è difficile spiegare che col miglioramento la cosa va comunque bene entrano in campo tante tante cose concludo con una battuta personale io sono un allievo di vittorio de feo e quindi ho a cuore le opere di de feo in umbria non l'abbiamo censite per questo ci rientravano tutte lo potete immaginare ma c'è in particolare un complesso residenziale a ponte della pietra dove io ne ho laureato sono stato giovane anch'io ho collaborato con vittorio ora sulla scia del 110 potete immaginare quello che stanno pensando in farcitura di pannelli fotovoltaici pale di microeolico una cosa proprio veramente da star trek più il cappotto quello inevitabile anche l'eschimo probabilmente mi sono permesso di andare dall'amministratore del condominio a segnalare che questa cosa io purtroppo ho usato questa perché non potevo dire vincolato ho detto ho fatto notare che era attenzionata dalla soprintendenza così si dice hanno fatto la riunione condominiale mi chiama l'amministratore e dico come è andata dice male perché hanno detto che da parte loro l'edificio non è attenzionato questo è quanto grazie a professor Berardi che ha già una realtà del tutto diversa da quella di altre regioni il numero in effetti ha delle caratteristiche molto diverse e molto interessante il riferimento al miglioramento antisismico piuttosto che l'adeguamento antisismico che è l'unico modo per per mettere sicurezza parziale ma non piccola i monumenti e tutto il vincolato è stata un lo sconoscivo poco di di contemporanei lunghe non si è così terni non si è la chiesa di fucsas che non è una delle migliori cose che fucsas abbia fatto il vagoncino di tram nuve che è molto bello con le stazioni tutte di cristallo e la risalita dentro la rocca paulina che è stato un colpo di genio meravigliosa una specie di tragitto all'interno della storia che poi arriva fino in cima camminare nella storia è vero per risalire nella storia e camminare va bene e resta parola a Andrea Learvi se la mia scaletta corrisponde che è direttore della fondazione Giovanni Michelucci a cui volevo porre una domanda prima così una mia curiosità Giovanni Michelucci disegnò un'uscita posteriore dagli uffici che era molto interessante vivace leggera luminosa poi non è stata realizzata perché arrivò il progetto vincitore di concorso di Arata Isozaki che neanche quello è stato realizzato adesso non so se si parla ancora dell'una o dell'altra cosa di Arata Isozaki o dell'uscita del mio ufficio adesso mi allora comincio da qui Michelucci fu incaricato e fece una serie di disegni attorno all'ottantasette credo voglio ricordare che Michelucci aveva novantasette anni comunque a quegli anni e proprio a seguito di una precedente uscita degli uffizi progettata negli anni c'erano dei progetti degli anni sessanta degli anni settanta successivamente quindi fu sempre risolta questa parte posteriore purtroppo cominciarono a fare dei lavori lasciando una struttura in cemento armato una specie di discesa con alcuni elementi figurativi che la delineavano e che però compromisero nuovi progetti perché la demolizione di questa rampa di questa grande rampa avrebbe messo in crisi la struttura degli uffizi per la demolizione ho chiesto allora un parere naturalmente Michelucci si appassionò subito questo progetto questa serie di disegni con delle grandi arcate gotiche vetrate ma subito dopo si proseguì invece più avanti con il concorso che credo fosse già dei primi anni novanta quindi Michelucci forse era già morto a Firenze ogni discussione sul moderno va avanti secoli come potete immaginare e tant'è che anche concorso vinto da Arata Isozaki ogni anno è l'anno prossimo che cominciano ecco diciamo e anche quest'anno le notizie di stampa continuano a garantirci che anche solo a rispetto questa è una questione nota che chi vince un concorso avrebbe diritto quantomeno di 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 aprire una discussione sul progetto altro sono passati sì più di vent'anni più di vent'anni però ancora ad oggi è sul piatto anzi sembra ci siano anche ulteriori finanziamenti pare però vedremo che succede ecco diciamo anche anche Firenze ha qualche problema col contemporaneo non soltanto l'Umbria ma questo potete immaginarlo soprattutto la città di Firenze ecco volevo forse dire alcune cose che hanno tra l'altro che motivano anche il fatto per cui noi come fondazione Michelucci non siamo una struttura non siamo istituzione universitaria ma siamo un centro di ricerca che si è occupato naturalmente sempre anche di architettura soprattutto poi di architettura sociale su altri ambiti ma la storia del nostro coinvolgimento inizia in realtà con un primo progetto fatto con la regione toscana e quindi importante anche ruolo che in quegli anni parlo del 95 2000 ci affidò insieme naturalmente a molte collaborazioni anche con l'università per stilare un primo un primo un primo censimento dell'opera del novecento 1900 2000 era un un ampio un più ampio raggio di tempo naturalmente che in qualche maniera fece fece emergere una prima operazione importante devo dire fatta da un'istituzione regionale in questo caso per far emergere il patrimonio proprio in questa chiave di valorizzazione tutela eccetera eccetera peraltro ecco una piccola notazione l'esito di questo progetto nel 2000 portò di là di alcune operazioni alcune alcune pubblicazioni a un database con tanto di immagini nel 2000 sul sito della regione toscana credo sia rimasto in vita fino al 2013 o 14 o qualcosa del genere tra l'altro le schede del direzione generale degli archivi degli architetti puntano a quel database che con un cambio di piattaforma è svanito problema ovviamente di aggiornamento è un problema di cui si è discusso stamattina e che sempre di più bisognerà discutere naturalmente perché il tema è naturalmente quella delle monotenziali degli archivi ma ne abbiamo già parlato ecco però è insomma il rischio è molto molto alto naturalmente che richiede richiede giustamente investimenti e una continuità di cura proprio degli archivi soprattutto di questi digitali sono salve le nostre carte ma come dire molti materiali non più poi per non parlare poi naturalmente dei progetti di architettura contemporanea abbiamo parlato anche stamattina in molti casi parto da questa considerazione per dirvi che appunto noi siamo occupati all'ora di questo e nella prima parte diciamo nel prima decennia del duemila abbiamo collaborato a lungo sia con la sovrintendenza e anche noi per stilare il fondamentale archivio degli architetti insieme alla sovrintendenza ricordo allora Elisabetta in sabato che proprio ci ha lasciato ma è stato un motore importante non solo per raccogliere gli archivi o per avviare questa operazione di censimento degli archivi ma questo ha anche innescato e insomma ne ho una viva memoria di questo una mobilitazione soprattutto degli eredi questo ha permesso mi sembra attorno al 2004 di far arrivare all'archivio di stato di Firenze i primi archivi quello di Savioli prima di tutto che è stato uno dei più ordinati eccetera però questo ha permesso di salvare molto materiale in questo senso e la pubblicazione che poi ne è seguita sugli archivi degli architetti è uno strumento fondamentale per chi lavora in questo senso poi parallelamente lo dico anche dal punto di vista più che personale della nostra istituzione anche le collaborazioni con l'associazione nazionale archivi d'architettura qui molto ho militato e con molti di voi e molti compagni di avventura che vedo qui ha posto ugualmente e ulteriormente la questione dell'emersione del valore delle opere naturalmente e ci siamo trovati poi a questo punto in collaborazione con la regione toscana è stato importante anche questa cosa PARC e regione toscana hanno sostenuto il nostro primo censimento che abbiamo fatto mi sembra fra il 2009 e il 2011 sostanzialmente a cui ne è seguito un altro poi vi dirò perché ha altre caratteristiche che abbiamo finito da poco 2021-2022 perché è anche significativo questi dieci anni che sono passati ma io innanzitutto volevo sottolineare alcune questioni quella delle fonti molto è stato detto però ecco una cosa che abbiamo colto è che ad esempio il ruolo della pubblicistica è stato indubbiamente fondamentale nel primo censimento proprio per la grandissima vivacità che aveva la pubblicistica per quel che riguarda diciamo il secondo novecento anche lo stesso come dire protagonismo diciamo del territorio toscano probabilmente era legato è stato legato sia alla presenza anche di alcune riviste o altro ma anche di un rapporto soprattutto con le grandi riviste milanesi o le esperienze romane o altro e di figure importanti fra tutte voglio ricordare Giovanni Claus Koenig che è stato una delle figure più importanti nel 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 anche costruire e rimettere in fila tutte le questioni che hanno portato alla al percorso che ha fatto diciamo la disciplina architettonica nel secondo novecento in Toscana ha permesso di far emergere in maniera significativa quello che era successo soprattutto come è stato ricordato anche stamattina in quel periodo fra gli anni cinquanta e gli anni settanta sicuramente il ruolo è stato importante dico questo perché poi successivamente abbiamo visto una forte flessione per quel che riguarda la fortuna critica e parto dalla fortuna critica perché naturalmente è stato anche una delle principali fonti di emersione certamente c'è stato un tema di emersione delle opere e poi di selezione e certamente anche di esistenza in vita attorno al tema dei sopralluoghi fondamentali che prima ricordava la collega ecco l'emersione delle opere e la selezione quindi il ruolo il ruolo della pubblicità che è stato importante dicevo sul territorio toscano quando ancora un certo protagonismo era vivace ecco in questo senso abbiamo visto soprattutto un calo cominciare dagli anni ottanta in poi e poi negli ultimi vent'anni ci sono forse anche altre questioni ma è stato è stato uno degli elementi che come dire ha permesso di filtrare rimettere in ordine e poi a questo punto far emergere gli altri elementi che in qualche maniera hanno connotato la ricerca il tema degli autori le scuole le scuole diciamo le scuole d'architettura scuole d'architettura con naturalmente Michelucci certamente un protagonista ma un protagonista voglio ricordare che nel 48 ha lasciato la facoltà d'architettura per spostarsi a Bologna però ha lasciato soprattutto incentivato il lavoro dei suoi dei suoi collaboratori e poi dei suoi allievi penso a Ricci penso a Savioli penso a Gori Detti e tanti altri insieme ad altri ambiti di lavoro e di sperimentazione oltre a Fagnoni penso a Spadolini e Gamberini e Spadolini che su altre linee di lavoro hanno hanno costruito diciamo le grandi esperienze del secondo novecento in Toscana l'attività di emersione naturalmente e di valutazione è stata fatta con un contributo del territorio importante le sovrintendenze sicuramente parlò del 2011 ma poi in maniera ancora più marcata successivamente in parte anche degli ordini professionali devo dire sempre anche con un necessità di mantenere anche un certo distacco rispetto a quelle attività più di passatemi il termine di promozione in quanto e non a caso anche sul piano bibliografico sono state escluse le monografie proprio perché avevano dei percorsi diciamo anche di costruzione della fortuna critica diversi rispetto agli studi sistematici che erano invece il cuore della anzi stamattina ricordava dei testi fondamentali Margherita che sono poi alla fine diventati dei punti fondamentali di filtro diciamo neutrale fra certi fra virgolette rispetto al ruolo delle monografie su questo voglio anche ricordare soprattutto negli ultimi 15-20 anni il ruolo delle monografie è diventato ancora diverso ecco un torno al tema diciamo del dell'attività promozionale perché in molti casi è anche questo insomma quindi un distacco e un distacco del della fortuna critica affidata a soggetti esterni è diverso. Tornando agli ultimi anni a questa seconda ricerca voglio anche ricordare che un importante impulso è senz'altro venuto nell'emersione delle opere anche dalla pubblicistica territoriale gli ordini degli architetti attività naturalmente anche dell'università o altro ma nel gruppo di lavoro forse qui forse vale la pena di ricordare che in questo secondo aggiornamento del censimento prima erano 300 opere nel secondo erano 100 è stato strettissimo il lavoro fatto con la direzione regionale e con il gruppo il gruppo di lavoro della direzione generale che sono molti sono qui presenti con noi e le sovrintendenze hanno sempre partecipato anche anche i rappresentanti delle sovrintendenze proprio per cercare di avere una una forma anche di copertura il più possibile anche di tutte quelle opere che la fortuna critica da un lato o diciamo la sitografia più recente non in qualche maniera non 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 hanno fatto emergere o non facevano emergere in questo senso in questo senso volevo ricordare alcuni alcuni altri aspetti ecco abbiamo assistito al di là delle opere che scorrono dietro credo siano note ai più naturalmente non si tratta che di 10 opere su un repertorio di 400 ma tutti voi sapete quanto è difficile difficile selezionare anche solo 400 opere sono comunque poche eravamo partiti credo nella prima ricerca con 500 opere di partenza sulle 300 che poi hanno fatto parte del primo censimento ecco non volevo tornare su alcuni altri aspetti legati ai criteri ovviamente a parte i criteri bibliografici e criticità che sono emerse ma che tutti noi conosciamo che forse richiedono qualche ripensamento ulteriore uno degli aspetti che con la nuova versione diciamo dei seti criteri eh abbiamo trovato un po' più problematico è il fatto di avere ad esempio eh escluso eh escluso eh il tema dell'inserimento ambientale paesaggistico che prima era presente lasciando soltanto il criterio dell'inserimento urbano so che è questione di riallineamento con altri protocolli quindi forse meglio di me saprà raccontarlo i responsabili della ricerca però ecco il tema del dell'inserimento ambientale paesaggistico è ovviamente un un tema non secondario soprattutto nel momento in cui torno ad alcuni altri esempi eh opere degli ultimi anni sono state molto significative sul piano dell'inserimento ambientale sulla Toscana potete immaginare tutto il tema delle delle cantine d'autore naturalmente dove eh ragioniamo e abbiamo anche ragionato con funzionari di sovraintendenza su che cosa vuol dire un inserimento ambientale che cosa vuol dire una cantina eh inserita in un paesaggio come quello toscano eh con visioni diverse legittimamente sono visioni visioni diverse ma ci siamo apposti eh ci siamo apposti naturalmente il problema di 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 comprendere quanto non voglio dire arbitrario però in ogni caso viene affidato a alla discussione collettiva perché eh voglio dire ci sono sono state delle ampie discussioni collettive importanti su 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 molte opere in questi sei otto mesi di lavoro eh su su questa seconda selezione una selezione tra l'altro eh molto più difficile perché come dire nella prima si giocava facile avevamo un sacco di opere meravigliose un supporto critico meraviglioso eh tanti studi e ricerche eh lavorare sugli ultimi sugli ultimi abbiamo lavorato soprattutto naturalmente sugli ultimi vent'anni dal dal duemila al duemilaventi proprio è fresca fresca la l'ultima opera penso sia tam associati a Livorno la chiesa che hanno fatto riprendendo quest'opera eh ma eh in questi in questi ultimi vent'anni eh sono cambiati ovviamente molti approcci eh molti approcci tecnologici da valorizzare o meno c'è stata maniera anche eh come dire di trovare delle nuove chiavi di consultazione repertori internazionali che riportano opere eh spesso legate naturalmente anche eh la metto così anche sulle relazioni dell'autore lasciatemelo dire ecco insomma in molte situazioni eh una pubblicistica passa anche attraverso la notorietà non c'è dubbio e difficilmente se non c'è un rapporto stretto stretto col territorio con chi le 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 opere le conosce eh questo lavoro di immersione e poi di successiva analisi diventa più diventa più complicato eh un'ultima cosa volevo anche dire ehm gli ultimi vent'anni ci hanno anche permesso di riguardare alle 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 ricerche fatte diciamo dal quarantacinque alla duemila grosso modo era quello il range perché nuovi studi critici effettivamente sono usciti torno solo a casa esagono perché qui c'è Marco del Francia che tanto si è speso in questo senso eh che nel duemiladieci non aveva fortuna critica in senso bibliografico diciamo se non attraverso attività di 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 l'attività di dell'associazione o altro eh che successivamente hanno trovato invece in questi anni eh altro altro spazio oppure una serie di casate per vacanze in 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 Versilia che grazie a nuovi studi hanno permesso di integrare eh pezzi di 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 ricerche e di attività che è prima nella prima ricerca erano state che non state eh non erano state considerate spesso proprio per mancarsi di informazioni di dati e e altro eh devo anche dire che è stata una straordinaria esperienza eh quando è stato possibile interagire coi 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 proprietari con i committenti Stamattina Claudia ricordava la la il tema anche della 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 eh degli archivi orali ecco ehm io devo dire personalmente ho avuto la fortuna di poter fare molti sopralluoghi e in molte occasioni di poter trovare eh i i committenti originali dell'opera e che ovviamente erano portatori di una memoria e di un affetto anche attraverso quindi con una consapevolezza del valore della loro opera di come è anche stato un prodotto loro per certi versi quindi il tema del rapporto committente eh architetto è certamente molto importante. eh un'ultima cosa volevo dire riguardo riguardo la tutela eh ecco un'occasione ehm ho parlato anche in altre occasioni eh di valorizzare questo lavoro è stato anche quello quando è stato possibile di interagire con le pubbliche amministrazioni ehm l'attività di censimento del 2011 eh è stata presa integralmente per il piano urbanistico di Firenze nel rinnovo che è stato fatto mi sembra attorno al 2012-2013 e quindi quella lista di attenzione rimaniamo alla lista di attenzione non siamo ancora a organismi di di tutela però in ogni caso sul piano urbanistico e quindi sul piano amministrativo è un valore importante quindi l'emersione di queste opere e il lavoro di coordinamento e tanto più si può spingere verso anche come dire un coinvolgimento della pubblica amministrazione è quantomeno un primo elemento che che accende un faro quantomeno su opere che possono essere essere eh dimenticate ehm poi c'è il tema delle opere scomparse purtroppo che è una che è un gran crucio e soprattutto torno con l'allarme sulle modifiche e su quello che succede naturalmente e voglio anche ricordare una cosa ehm prima se ne parlava ci sono opere che sono state anche modificate voglio solo fare l'esempio di un edificio di Gamberini a Ferrara a perdona Firenze in Via Nazionale eh la cui principale caratteristica per cui era stato censito era per un eh innovativo sistema di apertura a ciglia degli infissi eh qualche anno fa eh sono stati tolti tutti gli infissi a ciglia eh sono stati messi degli infissi nuovi eh devo dire in quell'occasione con un po' di rabbia l'abbiamo anche segnalato al comune eh dicendo non è più considerabile un edificio eh proprio perché la caratteristica più significativa era quella innovazione che era frutto di ricerca di attività o altro nel momento in cui poi è andata perduta. Poi molti edifici sono perduti e purtroppo eh io lo vedo dal punto di vista quanto meno del nostro lavoro sul lavoro di Michelucci è sempre molto difficile un braccio di ferro forte con le proprietà soprattutto quando soprattutto quando la pubblica sono diventate private. Non entro su esempi ma purtroppo ehm a distanza di cinquanta sessanta anni eh settant'anni a volte gli edifici certamente come come diceva Baldi hanno necessità di trovare nuova vita nuove modalità d'uso. Le poste di Firenze non sono più utilizzabili come poste perché eh però eh vanno trovate delle dei percorsi compatibili dove il tema che noi poniamo è quantomeno quello del progetto se non direttamente col con l'architetto o altro però un 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 percorso progettuale che in qualche maniera eh lavori sul sul valore dell'opera ecco ehm a fronte del considerare spesso opere eh solo dei metri cubi da valorizzare viene usata questa espressione prego grazie grazie a Leardi la Gamberini evidentemente era sfortunato perché anche il peci di Brato è stato trasformato completamente quindi è una cosa forse è stata un'operazione un po' un po' azzardata non lo so comunque molto interessante questa cosa di cui conoscevo no molte cose non non le conoscevo invece poi vengono fuori da questi non li chiamerei censimenti perché il censimento eh come dicevamo oggi a pranzo con Francesca Castello vuol dire censire tutta la proporzione è un catalogo un una una rassegna non so ma il censimento ma comunque una selezione ecco una selezione va beh la parola a Pasquale Belfiore che mi fa molto piacere mi ha fatto molto piacere incontrare perché già ci siamo visti e rapportati a Napoli quando io ero direttore regionale della campagna lui era assessore comunale avevamo cominciato a pianificare un intervento che si doveva chiamare cuore di Napoli e che doveva mettere a sistema tutte le opere d'arte nel centro storico era complicatissima che però abbia avuto credo un buon successo comunque poi è stata fatta altro a Napoli per altro anche bene prego Pasquale grazie anche per me con piacimento per questo ritorno allora io mi toglierei subito il problema di ragguagliare brevemente sulla campagna poi mi interessa dire anche altre cose le regole d'ingaggio che io devo parlare della campagna quindi molto velocemente no allora bilancio in chiaro scuro una buona positività una sufficienza completa per i primi trent'anni bilancio opaco negli ultimi due decenni anni non perché non vi siano delle opere importanti ma perché dobbiamo anche giudicare l'architettura non per le sue eccezioni ma per la media di qualità che riesce ad esibire e a produrre in questi casi si parla di una esteticità diffusa che è quella che manca la scena urbana delle città campane in genere certo ci sono dei punti di applicazione degni di citazioni però è complessivamente l'edilizia che è stata prodotta in questi ultimi cinquant'anni che lascia insoddisfatti perciò bilancio opaco a Napoli vai a Pozzuoli e vedi questo straordinario episodio dell'olivetti di Luigi Cosenza che è un capolavoro assoluto di architettura del paesaggio ancora prima che di architettura però poi cammini per la nuova Pozzuoli e vedi poi qual è il livello medio che l'architettura di oggi è capace di esprimere questo discorso vale un po' per tutto nel caso di Napoli poi ci sono delle delle situazioni specifiche perché i primi diciamo tre decenni sono assorbibili c'è il capitolo dell'edilizia residenziale pubblica che Mario Labbo giudicava tra i più interessanti dell'architettura del dopoguerra in Italia erano autori Luigi Cosenza di Salvo Carlo Cocchia Giulio De Luca poi c'è il periodo delle grandi attrezzature pubbliche anche qui per esempio con lo stadio San Paolo un'architettura mediterranea straordinaria di Carlo Cocchia prima della ferraglia immonda che è stata aggiunta per i mondiali del novanta ci sono altri edifici che meritano questa citazione e tutto questo accadeva nel periodo più in vero in vero conto della storia del novecento a Napoli quello che rimane sulla città e quindi questa contraddizione di alcune importanti opere di architettura proprio nel momento in cui questa città subiva questo affronto poi arriva il terremoto che per noi ha rappresentato un punto di flesso e non certamente positivo dire che è stata un'occasione mancata a Napoli come nell'epicentro del diavellino è cosa ampiamente detta. Scesero e qui il termine è letterale da tutta Italia i migliori e maggiori architetti quasi tutti lasciarono come si può dire un segno della loro presenza nella struttura post terremoto della regione eppure i risultati complessivamente non sono stati all'altezza delle attese. La cosa paradossale è che la storia dell'architettura degli ultimi due decenni a Napoli si racconta solo ed esclusivamente con le stazioni della metropolitana ma non è una scelta come dire di carattere tipologico stilistico che fanno gli storici o perché magari sedotti dall'antologia di archistarre che sono scese a Napoli ma perché in realtà è l'unica cosa grande e importante che è stata fatta poi sui risultati naturalmente si distingue una stazione dall'altra alcune francamente riuscite altre sopra le righe altre sotto le righe però sicuramente diciamo la storia degli ultimi due decenni della terza città d'Italia si fa solo ed esclusivamente con le stazioni della metropolitana a conferma di una totale inattività che questa città ha espresso negli ultimi decenni nel campo dell'edilizia ci sono motivi di carattere economico motivi di carattere venditoriale ci sono motivi di carattere normativo sappiamo tutti che è una città troppo affollata su un territorio troppo piccolo distanguata nei decenni e nei secoli passati quindi la possibilità di costruire ancora è rarissima e questo combinato disposto tra tutti questi elementi ha prodotto una stasi sostanziale nell'attività della progettazione della realizzazione quando vedo i 5.000 testi censiti o selezionati o segnalati ecco io sono un fautore della quantità ovviamente accanto alla qualità questo nessuno lo può disconoscere ma conoscere molte cose e avere un campo così vasto su cui lavorare è un elemento di conoscenza che dà la possibilità di progettare meglio allo stesso modo se una città non progetta e non realizza certamente non può diciamo presentare dei testi sui quali può esemplare progetti avvenire e quindi c'è questa inattività Salerno ha fatto questa scelta di assegnare il piano regolatore come sappiamo a Boigas il quale all'interno del piano regolatore ha fatto questa scelta tra virgolette eccentrica di non pianificare alla vecchia maniera ma di progettare per di pianificare per progetti che allora nella diatriba piani progetti che era al centro dell'attenzione della discussione accademica e sulle riviste sembrò una novità e questo sicuramente ha prodotto delle cose interessanti a Salerno ma per me questo scatto eversivo di Soleri con la fabbrica Solimena a Vietri testa uno dei testi più memorabili nonché la stazione di Adidoci per Fildo con la cittadella giudiziale non siano degni di menzione ma ecco questa eversività dell'immagine urbana che propone Soleri a Vietri secondo me resta ancora ineguagliata. Un po' sottotono la provincia di Avellino ma è un po' diciamo è stata sempre la cenerentola dell'attività edilizia in Campania e c'è però un elemento di colpevolezza perché è la zona del cratere nella quale sono riavuti allora miliardi e miliardi credo che la commissione parlamentare abbia calcolato in 80 mila miliardi la cifra spesa complessivamente per la ricostruzione di cui cospicua parte di questa è andata all'Irpinia e però non è stato prodotto un solo testo degno di entrare in una selezione dell'architettura Avellini io ho segnalato un testo singolare che ha progettato Donatella Mazzoleni in questo comune di Montella incompiuto da 30 anni e qui abbiamo scoperto scoperto e credo che sia anche patrimonio di conoscenza vostra che se voi fate un'architettura che consuma come una petroliera dovete avere 10 permessi se fate un'architettura resiliente ecocompatibile tutte le aggettivazioni che sappiamo di permessi ce ne vogliono 20 e poiché questa architettura che la Mazzoleni propone a Montella è un'architettura bioclimatica con degli accorgimenti di orientamento di materiali e così via oltre naturalmente ai ai ritardi fisiologici aggiunge anche questo che ha avuto diciamo la cattiva idea tra virgolette di voler fare un'architettura che ha queste caratteristiche ma questo è solo un inciso per capire le difficoltà dentro le quali ci muoviamo Caserta presenta un'attività un po' più vivace per la presenza di un gruppo di allora giovani oggi diciamo una generazione di 50 60 anni che veramente poi ha proposto delle cose di un certo interesse e qui diciamo la riflessione per certi versi interessante che ne viene fuori di come l'architettura come tante altre cose naturalmente si alimenta di un clima culturale diffuso noi dobbiamo anche pensare che la caserta nella quale nascono questi ripeto allora giovani architetti è quella dei fratelli gli artisti il cantante e l'attore è quella dello scrittore piccolo e così via quindi c'è tutto un clima culturale negli anni 80 90 che nasce a Caserta che poi ha prodotto anche queste espressioni Benevento è stato sempre terra di conquista per i napoletani non ha avuto mai una generazione di architetti che ha prodotto all'interno della città cosa di un certo interesse vi hanno lavorato Piccinato, Roberto Pane, Frediano Frediano e così per tanti altri c'è solo questo scatto poetico di questo Ortus Conclusus progettato da Roberto Sedino che è un bravo collega di progettazione e dall'artista Mimmo Valladino un luogo veramente incantato questa parola credo che è questo qui per chi ha vissuto questo spazio veramente questa parola non è un iperbole ecco questa è la situazione napoletana quindi un bilancio opaco complessivamente negli ultimi anni delle criticità che naturalmente risultano pari pari dalla statistica che si fa sui 330 testi selezionati e vediamo che man mano che ci si avvicina la contemporaneità proprio numericamente questi numeri scendono ma non perché il curatore diventa più severo ma proprio perché si trova a lavorare in una condizione come dire indigenza operativa per così dire quindi ho assolto il mio compito di ragguagliare però ora mi preme dire altre cose io vedo qui in sala anche generazioni di quarantenni io credo che con io mi giochi il ruolo di decano di questa assemblea ho 75 anni e ho cominciato a conoscere questa storia della selezione del censimento intorno al 2000 proprio con pio baldi marita buccione così prima osservazione rapporto storia storiografia sono cose che vanno insieme le prime esperienze che sono partite in italia su questi argomenti sono stato su questo argomento sono stati resi possibili anche grazie ad un lavoro storiografico fatto in precedenza noi dobbiamo a perostilio rossi che è stato come dire la ripista di questa tradizione la prima monografia sul roma moderna e quando uscì questo libro sul roma moderna ricordo che il nostro maestro comune renato dei fusco propose a me a benedetto di dire ma perché non facciamo una cosa analoga e così proponemmo alla sovrintendenza di decunzo di fare un censimento delle architetture del novecento a napoli del secondo novecento a napoli quando dieci anni dopo circa partì il censimento noi avevamo già un repertorio che poi ha trovato accoglimento in questo libro nella stessa collana che è detto ed io scrivemmo per la la terza dalla quale attingemmo a piene mani quindi si trattava come dire di integrare come si vuol dire oggi implementare questo lavoro che è stato fatto e questo lavoro storiografico poi finisce per diventare storia perché quella che ci stiamo raccontando da questa mattina è la storia di questa istituzione e devo dire anche io sono diciamo una tessera di questo peccanismo però lo dico anche con un certo orgoglio è una storia importante ed è una storia soprattutto innovativa che va raccontata alle nuove generazioni quando è partito nel questa questa inizia quando è partito questa iniziativa nel duemila i giovani devono sapere che era un atto di coraggio istituire una una direzione generale dell'architettura contemporanea la parola contemporanea non credete che nel ministero sia stato diciamo un un luogo nel quale questo termine aveva facile accoglimento e addirittura nel duemila quattordici continuando diciamo forza nel dna di questa direzione ci doveva essere qualcosa di 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 coraggioso di 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 sperimentale addirittura si inserisce la parola periferia che dal punto di vista culturale è stato sempre l'antipolo urbano del centro storico il ministero dei beni culturali è deputato alla tutela e conservazione e valorizzazione del centro storico inserisce addirittura nella titolazione di una sua direzione generale la parola periferia urbano ecco tutto questo diciamo rappresenta degli strappi come dire culturali e diretti guarda strutture epistemologici nella storia di questo argomento che stiamo raccontando e di questo dobbiamo essere consapevoli che noi stiamo raccontando una storia che attenzione in appena venti anni in appena venti anni cioè meno di quello che donatella mazzoleni sta cercando di fare per costruire una piazza a a a questo comune del dell'Irpinia in un tempo inferiore a quello della costruzione di una piazza si è consolidata una forte storia e storiografia su questo argomento allora qual è il compito che noi oggi abbiamo davanti non è quello attenzione qui sono d'accordo perfettamente con con l'esordio di Pio Baldi quando diceva noi dobbiamo guardare avanti perché vedrebbe quasi in automatismo pavloviano di dire cominciamo a riflettere sulla nostra storia non è questo il momento proprio il momento di andare avanti naturalmente quando si va avanti non si può che partire da quello che è il presente ottimo il titolo della rassegna e di quello che fino ad oggi è è stato fatto e quindi si tratta di lavorare su un patrimonio di ricchezza su un patrimonio di eventi che sono riusciti e quindi introdurrei diciamo proprio nel nostro sentimento come si suol dire oggi un elemento di ottimismo noi stiamo diciamo abbiamo messo le mani appena venti anni fa su un argomento che era se non ossigo certamente estraneo alla cultura di tutti noi e l'abbiamo portato ad un livello di consapevolezza generale addirittura politica nel momento in cui la parola periferia urbana è stata introdotta nelle nelle preoccupazioni del ministero che cosa dobbiamo fare dobbiamo lavorare ancora di più e meglio su questa selezione io avrei solo tre cose da dire c'è un problema di coerenza numerica dell'intero apparato ci sono delle cose che che dei salti che non si giustificano questo è un corpus unitario che naturalmente al suo interno ha delle oggettive differenze la Lombardia è diversa dalla Basilicata o dalla Sicilia o dalla sesta campagna Roma e Milano non possono competere con Napoli quindi diciamo sono delle cose che stanno nei fatti e però tuttavia all'interno di queste differenze non parlerei di una omogeneità ma una certa coerenza numerica tra le varie regioni probabilmente ci deve stare problema della valutazione noi non possiamo sottrarci al nostro dovere scientifico ancora prima che professionale di emettere un giudizio di valore sulle cose sulle quali mettiamo gli occhi e le mani quindi pensare di definire poi tutta questa nostra ricerca in termini semplicemente statistici per cui una un'opera a sette criteri un altro a cinque un altro a tre io darei un solo criterio alla citata opera di Soleri per la sua rivoluzione rivoluzione figurativa poi dagli altri punti di vista non mi pare che meriti altro e però merita l'eccellenza in forma assoluta viceversa potrei dare sette criteri ad un'altra opera ad un livello medio e naturalmente collocarla nelle opere selezionate più che nelle opere d'eccellenza quindi diciamo ci stanno dei problemi di contraddizione sui quali di aprire la riflessione e capire che comunque però la la conclusione dello studio di un di un'opera si deve chiudere con un giudizio che deve orientare anche diversi gradi di tutela di conservazione di valorizzazione perché mi pare che sia un po' teorico dire tutto va tutelato e conservato e valorizzato lo stesso modo è una bella espressione come dire democratica se questa parola ha senso nel lavoro che facciamo ma è di scarsa utilità insomma San Pietro in Montorio sarà sempre più importante di una chiesetta coeva fatta da un industrio sconosciuto quindi l'arte per definizione c'è una sua gerarchia interna quindi io chiuderei ogni studio con una valutazione terzo elemento è inutile ma questa è una parola provocatoria continuare a conoscere sempre di più di una cosa che già conosciamo abbastanza io credo che bisogna spostare lo sguardo non tanto su una conoscenza ancora più approfondita di quello che sappiamo perdere ore e ore in archivio per sapere l'esatta data se è 1947 o 1950 perché al al riguardo come si può dire ci sono delle fonti contraddittorie beh se c'è qualcuno che vuole perdere tutto questo tempo lo può fare ma il problema è di capire che uso faccio di queste cose io ho iniziato una mia attività di valutatore all'interno del consiglio nazionale della valutazione negli anni novanta con un panel di indicatori per appunto la la conoscenza della situazione delle università italiane rappresentanza della mia università che era l'attuale vanvitelli allora seconda università con 80 indicatori cioè noi dovevamo conoscere la situazione dell'architetto dell'università italiana con 80 indicatori arrivò provvidenzialmente il presidente dell'istat che si chiamava bigero che prese questi 80 indicatori di giusto a 20 e ci disse qui c'è un indicatore che dice di conoscere il voto medio dello studente italiano nel passaggio dal secondo al terzo anno del suo corso di studio dopodiché lui ha fatto il conto da buon statistico che gli uffici perdevano non so quante migliaia e migliaia di ore lavorative per arrivare a questo dato che era di totale in influenza cioè che cosa serve sapere che viceversa e fece proprio riferimento alla mia università disse nel caso della seconda università la da la l'età di ingresso dello studente nel mondo universitario è importante perché mi risulta disse lui che la seconda università ha una media di immatricolati di 22 anni che è un'anomalia totale da dove usciva fuori questa anomalia dal fatto che quando nasce la seconda università di napoli era un'università a rete come si chiamava loro meglio dire sparpagliata sul territorio erano cinque sedi o come si diceva allora con un'espressione di moda l'università sotto casa allora c'erano legioni di persone che non avevano nessuna intenzione di iscriversi all'università li ha metti sotto casa loro ragionieri geometri si iscrivevano all'università ma si iscrivevano 22 23 24 anni allora disse lui questo è un indicatore formidabile per noi perché ci fa capire diciamo che cosa dobbiamo conoscere per intervenire il famoso conoscere per deliberare quindi noi dovremmo lavorare nell'ambito della nostra conoscenza esaltando quelle conoscenze che ci consentono poi di intervenire allora per esempio dove sono gli archivi o lo stato di conservazione strutturale di un'opera è molto più importante che sapere se l'ha fatta nel 47 o nel 50 poi se possiamo sapere l'uno e l'altro ancora meglio ecco allora queste sono le tre cose che mi sentirei suggerire che naturalmente sono come dire gli argomenti su cui come si suol dire si apre il dibattito grazie 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 grazie